Oggi un progetto un po' fuori dal solito almeno per me se non avete mai cucito una borsa un po' più seria magari in similpelle con chiusura zip eccetera eccetera beh, in realtà fino a qualche giorno fa non l'avevo mai fatto neppure io quindi oggi lo facciamo insieme Salve a tutti gente con Stoffa e bentornati sul mio canale per chi non mi conoscesse sono Elisa Masi di Mamma con Stoffa una designer indipendente e creo carta modelli per farvi cucire divertendovi senza stress anche se non ne sapete poi così tanto di cucito come vi ho anticipato eccomi nella mia prima esperienza di borsa in similpelle un po' più seria questa è una borsa un po' dal design che sta tra il marsupio una borsetta misura molto contenuta e l'ho personalizzata con la Cricut Joy e ci ho messo il mio adorato stregatto che amo alla follia da tanto tempo forse perché è fuori di testa come me comunque perché ho realizzato questo progetto perché volevo testare la mia nuova Necky Creator C35 ma cos'ha di speciale questa macchina? la sua caratteristica è proprio quella di essere particolarmente predisposta al cucito strong ovvero cuce benissimo quei tessuti più difficili o gli spessori pesanti belli tosti questo perché grazie alla doppia puleggia fa penetrare l'ago senza sforzo sui tessuti pesanti o particolari senza dover premere il pedale alla follia lo fa anche a basse velocità quindi una macchina particolarmente adatta per questo utilizzo la vedremo poi in azione nel video tutorial mentre cuciamo insieme grazie ai cartamodello gratuito ma prima vi invito ad iscrivervi al canale attivare la campanella per le notifiche e lasciare un pollicino in su per supportare questo video dove trovare il cartamodello? tutto scritto qui sotto in descrizione trovate il link, seguite i passaggi e scaricate il vostro pdf se vi va lasciate un commentino qui sotto per far vedere che siete passate è anche una considerazione insomma a voi non costa nulla ma aiutate veramente tanto il canale a crescere durante il tutorial sentirete anche un po' di mie considerazioni e fatemi sapere cosa ne pensate andiamo quindi a vedere il video e noi ci vediamo alla prossima volta ciao questo è tutto il necessario trovate comunque la lista per acquistare quello che vi serve qui sotto in descrizione nel cartamodello che potete scaricare dal link trovate tutti i riferimenti il pezzo al netto di cucitura che vi serve per l'inter fodera inter fodera che non ho messo in questo caso perché volevo mantenere la morbidezza del tessuto i pezzi abbiamo un pannello davanti uno dietro poi due pezzi che faranno da fodera io ho anche segnato la posizione della tasca dopodiché due pezzi che vanno a tenere la tracolla e il pezzo porta tracolla di questi pezzi ne serviranno anche altri due in fodera in più potete mettere l'inter fodera per renderlo più resistente poi ho un pezzo che darà ampiezza al fondo della nostra borsa sia in tessuto esterno che in tessuto interno cioè in fodera in più andrebbe applicata un'inter fodera cosa che non ho fatto per il motivo che vi ho detto poi abbiamo io qui ne ho due fodere tasche ma alla fine ho deciso di farne una così e una in fodera tasca nera una zip per la chiusura e altri due zip che mi faranno da taschine poi abbiamo un passante e due altri passanti per la mia tracolla la prima cosa che andiamo a fare è la tasca che qui ho fatto sul dietro ho una tasca con zip però vedete che è tutta scura pelle scura l'interno fodera ho deciso poi di metterla nera perché lo trovo più idoneo quindi andiamo a fare la procedura sulla tasca interna che ho utilizzato un tessuto chiaro ecco qui prendo la mia fodera tasca prendo la mia zip e inoltre vado a tagliare un pezzettino largo come la fodera tasche ma alto 5 cm nel pannello borsa interna vado a segnarmi sul dritto del tessuto la mia posizione tasca che trovate sul cartamodello lo faccio con una penna evanescente in modo che poi stiro e se ne va vado anche a segnare il rettangolo posizione zip sul listello alto 5 cm e largo come la larghezza della fodera tasca mi segno il centro e dopo ovviamente il rettangolino che sarà il buco per poi mettere la zip questi segni mi faranno da guida per cucire esattamente sopra al rettangolo in modo da bloccare il listello con il pannello della borsa interna me lo appoggio infatti sul segno e andrò a cucire sul perimetro segnato non sul centro perché il centro ci serve poi per tagliarlo questo è il mio pannello davanti perché io mi sono fatta la borsa a misura cioè come la volevo però sostanzialmente dovrebbe essere il pannello dietro ottimo sono andata a cucire il perimetro ora sul segno centrale vado a tagliare e creo delle codine di rondine verso il lato corto del rettangolo porto verso l'interno il listello in modo che mi crei il foro tagliate bene bene quasi ad arrivare alla cucitura perché altrimenti quando girate vi fa la pieghettina in questo modo invece non dovrebbe uscire ovviamente serve una bella stirata in finta pelle ho dovuto stirare ugualmente perché la procedura diventa anche un po' più difficile quando stirate fatelo a bassissima temperatura e possibilmente dal rovescio oppure mettete la carta forno fatto il nostro foro possiamo procedere con la zip nella versione quella in similpelle io vi consiglio di andare a bloccare il margine di cucitura con il listello in modo che resti più piatto possibile a questo punto andiamo a mettere la zip sulla nostra fodera tasche in modo da iniziare a costruirla appoggio la zip sul centro e sul dritto della nostra fodera e vado a fissare con una cucitura dritta ho tolto il cursore per la gioia di tutte però è più facile da cucire effettivamente un po' meno facile da inserire andiamo a bloccare la nostra zip appoggiandola al foro e tenendo la parte lunga della fodera tasca che guardi in su qui la blocco con degli spilli io nella versione in similpelle ho usato dello scotch oppure potete usare wonder tape della prima se l'avete ok andiamo a macchina con il piedino per cerniere fissiamo con una in puntura la nostra zip l'abbiamo bloccata solo sulla parte bassa ma adesso dobbiamo bloccare il tutto anche nella parte alta ma prima dobbiamo andare ad inserire il cursore evviva evviva non vi nego che diciamo ho dovuto fare pratica e ho fatto diversi tanti infiniti santi parti per imparare però insomma in qualche modo diciamo adesso vado più leggermente più spedita invece di metterci quattro ore ce ne metto due dopo alcuni santi parti infilo il infilate il vostro cursore e bloccate il restante lato della zip intanto mi è scesa la voce qui volendo si poteva andare a bloccare il lato della zip più la fodera tasca e vi faccio fare un passaggio in più perché secondo me è più facile andate quindi a macchina e bloccate i restanti lati corti più lungo alto ed ecco qui che la vostra zip è bella che ferma e fissata come vi dicevo se siete più pratiche potete fare tutto questo in un unico passaggio cioè tirate su la vostra fodera tasche la poggiate al lato corto alto e lì andate a fissare il tutto insieme zip e fodera tasche io l'ho fatto in due passaggi perché secondo me per chi inizia è più facile dopo aver bloccato la nostra fodera nei lati diciamo liberi mi vado a segnare una curvatura perché vedete che gli angoli escono non devono uscire ovviamente dal nostro foderina principale e quindi ho dato una sagoma tondeggiante vado quindi a cucire sui segni che mi sono fatta cioè sui lati della mia fodera tasche e dopo di che ho il lato sopra aperto che adesso andiamo a bloccare insieme alla zip andiamo a fare una cucitura esattamente sopra alla cucitura esistente in modo da non vedersi il nastro sotto che non è proprio bello da vedere andiamo a fare questa cucitura e scoprirete che il nastro non lo si vedrà più dopo aver fatto la cucitura possiamo anche andare a rifilare un pochino di fodera tasca perché vedete che adesso il nastro non si vede più abbiamo il sopra bloccato l'eccesso lo leviamo perché così viene più pulito a questo punto andiamo ad applicare la zip sopra ai pennelli perché abbiamo le nostre fodere attenzione io ho fatto una fodera che poi andrà davanti quella con la tasca mentre sul dietro esterno ho la tasca sul retro perché io lì ci voglio mettere il telefono per paura insomma mi piace di più averlo lì ma volendo voi potete avere la vostra tasca esattamente sul davanti adesso andiamo a creare i centri dei nostri pannelli esterni e la stessa cosa la facciamo anche sulla zip segniamo bene il centro fate attenzione a questo passaggio perché io ho sbagliato di qualche millimetro e qua anche nel video si vede stupidamente proprio e poi mi sono trovata un piccolo errore sul finale vabbè niente di grave comunque appoggio la zip togliendo il cursore dritto contro dritto sul mio pannello dietro ma poi lo farò anche sul pannello davanti fisso e vado a macchina a cucire non cucite ad un centimetro ma cucite appoggiando il vostro piedino da zip sul bordo dopo aver fatto questa operazione dobbiamo andare ad applicare le fodere anche in questo caso mi segno bene il centro e poi appoggio dritto contro dritto sul centro della della zip e del pannello esterno dobbiamo cucire esattamente sulla cucitura precedente in modo che siano poi pari le fodere perfetto a questo punto la stirata secondo me è duverosa prima però vado a fare dei taglietti per aiutare la fodera a girare meglio dove li faccio faccio i taglietti soprattutto in prossimità delle curvature e ovviamente non vado a tagliare la cucitura ora dovrò andare a fare una impuntura che blocchi fodera e pannello esterno ovviamente di entrambi pannelli utilizzo ancora il mio piedino per zip perché secondo me è il più idoneo e vado a fare questa impuntura molto vicina al margine guardate che belle cuciture che realizza anche su un tessuto così particolare è tempo di mettere il cursore ok tra l'altro in questa versione ho deciso di mettere il doppio cursore perché a me piacciono le borse doppio cursore che me lo apro di qua di là metto il cursore al centro insomma io sono un po amante inserisco il cursore è andata bene ma devo dire e quindi ho la mia borsa chiusa la borsa deve rimanere chiusa chiusa però il cursore se non utilizzate uno solo deve rimanere centrale quindi insomma fate in modo che il cursore resti con la borsa chiusa ma al centro io qui come vi ho detto vado ad utilizzare un altro cursore perché voglio la borsa doppio cursore ho detto un milione di volte cursore ma va bene così in questo momento specifico avrei voglia di dire dell'altro comunque non è andata neanche male perché insomma dopo il decimo tentativo sono riuscita ad inserirlo ci sono delle tecniche più veloci per inserire i cursori magari ve ne parlerò ottimo è tempo di applicare i trapessi quelli che andranno poi a portare la tracolla e lo faccio sulla fodera e anche sull'esterno però attenzione fate combaciare vedete che c'è quella strana quel strano scalino eccetera e fate combaciare lo scalino esattamente con il con il perimetro del vostra borsa in modo da creare poi la continuità perché vedete quando la tirate su ecco qui che deve continuare il perimetro in modo corretto e non che manchi tessuto perché altrimenti non va bene bloccate i tasselli solamente sui laterali e non sul nastro della zip a presto a presto andremo infatti a cucire dal punto praticamente di arrivo della cucitura della zip fino al lato al fondo anzi della borsa questo sia sulla fodera che sull'esterno parto dal punto di partenza della cucitura dell'unione zip fino al fondo ottimo abbiamo fatto questa operazione adesso possiamo andare a bloccare la parte con il nastro zip sotto quindi facciamo una cucitura solo sul punto dove c'è il nastro zip e lasciamo i laterali invece liberi perché questo perché ci servirà poi per inserire il fascione quello che darà ampiezza alla nostra borsa vedete che ci sono gli scalini i dentini che escono li togliamo semplicemente ma vedete che la borsa ha la sua continuità nel perimetro questo ammetto è stato il passaggio più incasinato dove ho trovato un po difficoltà nel senso che di pensiero non ho mai fatto una cosa di questo genere quindi non avevo ben capito come comportarmi in questo caso comunque ne siamo usciti e adesso mettiamo il fascione quello per dare profondità e lo facciamo prima sulla fodra prendiamo appunto il tessuto di fodra e lo andiamo a segnare sui centri sia della fodra borsa che del fascione profondità dopo aver fatto questi punti di riferimento li facciamo combaciare centro il punto più estremo laterale e dall'altra parte e dopodiché proseguiamo a fissarlo su tutto il fondo della borsa in fodera visto la rotondità vi consiglio di fare qualche taglietto sul fascione in modo da dare al tessuto l'opportunità di adeguarsi meglio alla curvatura ovviamente i taglietti devono essere piccolini 3-4 mm non devono superare di certo i 5 perché altrimenti tagliate tutto il margine di cucitura prima di dimenticarci ricordiamoci che ci serve un foro di passaggio lo facciamo subito sulla nostra fodera un forellino di 12 cm è più che sufficiente vado quindi a cucire lasciando questo foro che mi sono segnata con un marcatore e vado a macchina ecco qui che ho cucito tranne il foro di passaggio e ora posso andare a collegare l'altra parte l'altro lato del fascione con il fondo della borsa ovviamente sempre in fodera come vi dicevo io la tasca ce l'ho sul davanti perché la tasca interna ce l'ho sul davanti per il motivo che vi dicevo prima ho messo sul retro quella esterna altrimenti due tasche lì sarebbero state eccessive inoltre mi torna utile così perché poi davanti io ci metto ci inserisco le chiavi vado anche meglio a prenderle comunque queste sono mie considerazioni personali sul fatto che l'ho personalizzata e questo lo potete fare tranquillamente anche voi per creare una borsettina un marsupietto ad hoc come desiderate abbiamo chiuso praticamente la nostra borsa in fodera e ora andiamo a preparare i nastri per la tracolla qui ho tagliato un pezzo di 22 cm era troppo va bene la metà quindi inserisco il mio passante e poi lo applico alla parte appunto porta passante in tessuto esterno ho tagliato poi la tracolla lunghezza 130 per me è più che sufficiente poi dipende dalla vostra altezza ma io penso che 103 e 30 vada bene per tutti applico al centro del mio porta nastrino appunto il gancetto e faccio lo stesso per la tracolla l'appoggio al centro e andrò a cucire attenzione lasciate uscire un po' di nastro non mettete la propria filo perché altrimenti vi si sfila è un disastro quindi state un po' distanti raggruppo tutto il nastro lo blocco con un elastichino perché adesso dovrò andare a chiudere la mia borsa esterna con il fascione ho anche tagliato l'eccesso della zip che fuoriusciva se non l'avete fatto prima io qui vi consiglio una cosina a parte segnarvi i centri come abbiamo fatto prima l'operazione analoga a quella della fodra ma vi consiglio anche di aprire la la zip appunto dell'apertura della della borsa perché sì magari si riesce a fare anche dopo ma io ho avuto difficoltà tant'è che ho alla fine ho aperto il fondo e stop poi l'ho richiuso quindi io vi consiglio di aprire la zip tenerla aperta e fare poi questa operazione di chiusura a fondo della serie sbagliando si impara ma per fortuna comunque anche qui dove trovate le rotondità andate a fare dei piccoli taglietti sul fascione in modo da adattarlo alla sagoma grazie a tutti ecco qui se non l'avete ancora fatto aprite la zip andate poi a cucire qui non serve lasciare nessun foro l'abbiamo lasciato nella fodera dopo aver cucito vado a rifilare con la forbice il margine di cucitura che sarebbe un po troppo altino e poi crea un po di difetto quindi rifiliamo con la forbice ora dobbiamo bloccare la fodera il lato quello che va praticamente ad agganciarsi con la parte che mantiene la tracolla e fissiamo questi lati insieme esterno con fodera qui ci troviamo davanti a un bel po di strati ovvero lo strato quella della similpelle e sono due la fodera più anche quella del nastro per la tracolla che ovviamente è doppio su quel punto quindi vedete è un bello bello tosto saranno un 5 mm parto addirittura con la mia macchina senza creare il diciamo l'appoggio del piedino dietro vedete che impenna quindi teoricamente non dovrebbe neanche andare avanti invece faccio avanti e indietro e in più lui sale sui miei 5 mm senza minimo sforzo prosegue e cuce benissimo per una macchina classica vi consiglio di mettere dietro un supporto per tenere dritto il piedino e non farlo impennare altrimenti non proseguite vado a tagliare gli angolini in modo che non mi facciano spessore quando poi porterò sul dritto la mia borsa e già comunque un pochino di spessore lo farà ugualmente non vado a tagliare il nastro che fuoriesce mi raccomando perché fate un disastro credetemi per esperienza ovviamente porto sul dritto la mia borsa ed ecco quell'importanza di avere la zippa aperta porto sul dritto la mia borsa faccio fuoriescire gli angolini magari aiutandomi con una forbice senza punta ovviamente con la punta arrotondata perché potete anche rovinare il tessuto e l'aggiusto ok la sistemo intanto che la sistemo faccio le mie considerazioni finali anche se mancano alcuni passaggi ve le anticipo già allora io non ho messo alcuna interfodera perché volevo questo effetto super morbidoso che effettivamente è uscito però tutto sommato se avessi messo un interfoderina anche un g700 non sarebbe andato poi così male comunque avrebbe mantenuto il suo effetto morbido ma un pochino più strutturata sarebbe uscita ovviamente tutto ciò dipende dal tessuto che state utilizzando perché la potete fare anche in tessuto e non per forza in similpelle quindi valutate questo aspetto ok dai tiriamo fuori il regolatore per la tracolla e andiamo ad inserirla all'interno la tracolla ovviamente andiamo ad inserirla all'interno di questo regolatore e fate attenzione quando fate questa operazione perché io ovviamente ho sbagliato la prima volta insomma facendo anche il video non sto neanche lì tanto a volte a guardare bene il mio lavoro perché guardo lo schermo a vedere se sono all'interno del video insomma e fate attenzione a inserirla correttamente che non sia arrotolata comunque ecco dopo aver inserito dalla tracolla poi dal portanastro lo vado a passare nuovamente sopra e sotto all'interno del regolatore e dopodiché blocco il lato corto rigirando un centimetro, un centimetro e mezzo verso l'interno il lato corto e lo blocco sulla tracollina fatto questo ragazzi è finita come vedete ho la mia tasca dietro poi ho l'interno davanti insomma la mia taschina dietro bella grande me la sono fatta per metterci dentro il telefono l'aggiusto io l'ho anche un po' stirata per dare un po' più di forma poi nel cartomodello sono andata a fare dei ritocchi perché mi piaceva un po' più tondeggiante sotto invece di proprio dritta così dopodiché abbiamo il foro da chiudere perché è il nostro foro di passaggio utilizzate un ago e filo se volete chiuderla a mano oppure potete fare come ho fatto io che sono più pigra la blocco con clip e poi vado a macchina e ci faccio l'impunturina sopra finita e ti sarai accorta che in fondo sono mezzo svanita anch'io eccola qui scaricate il cartomodello e mi raccomando fatemela vedere ciao ciao